Il notario camperale non finisce di stupire il suo interesse, non è solo per i comuni della provincia di Sernia, ma si ricorda anche della festa della mamma. Ma com'è nata questa festa? Quella festa della mamma è dai tempi primitivi. Se vediamo le immagini sui muri, c'è sempre una donna col pancione, fu sempre adorata la mamma. Poi nei tempi antichi, nell'Egitto, troviamo Iside, la dea della fertilità, la mamma. Poi nel mondo greco troviamo Demetra, la mamma. Poi nel mondo romano troviamo Giunone. Nel Medioevo fu una grandissima esplosione di gioia nella Madonna, che era la madre di Gesù, e quindi una grande effusione di affetto. Poi praticamente nel mondo moderno dobbiamo ricordare che veramente la festa è nata negli Stati Uniti. C'era la guerra tra il nord e il sud e a un certo momento ci fu la pace. Allora queste povere madri che avevano tanto sofferte per le prepotenze dall'una parte e dall'altra, quelle del nord e del sud si riunirono in una festa e fece la prima festa. Nel 1970, tanto era grande l'entusiasmo per questa festa che il presidente Wilson degli Stati Uniti praticamente istituì proprio la festa della mamma. Questa festa della mamma è stata istituita poi in parecchi stati. Per quanto riguarda l'Italia, ci fu un grande tentativo nel 1956 di istituire la festa della mamma. Ma al Senato non passò questa festa perché praticamente si disse che questi affetti intimi non potevano essere oggetto di una legge, dovevano essere istintivi. E così non si è fatta la festa in Italia. Anche se la festa si fa commerciale, la festa dei giovani, però praticamente non c'è un'istituzione, una legge sulla festa della mamma. Alla soglia dei novant'anni voi avete avuto un pensiero gentile per la vostra mamma. Ci fate ascoltare che cose volete dedicare? Finalmente la giornata è finita. Ora posso rilassarmi, sognare ad occhi aperti. Come libellula, svolazzando lieve, si adagia sui petali di un fiore. Così la fantasia ora si posa sull'immagine di mia madre. Ed io tanto spero che il suo ricordo mi congigli il sonno. Come quando ero piccino, piccino, e piangevo disperato nella culla, perché avevo paura delle tenebre. Ella correva, si precipitava, mi strappava dalla culla, mi metteva nel letto grande, in mezzo tra padre e madre, e mi abbracciava forte e forte. Come candela tremolante, si spegne al soffio del vento, così d'ingando il mio panto si spegneva, ed io mi addormentavo dolcemente. Buonanotte.